La visione delle ossa disseccate che riprendono vita, come raccontata dal profeta Ezechiele, è il testo biblico scelto per la 35esima giornata per lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei che si terrà il prossimo 17 gennaio. Sul brano hanno proposto le loro riflessioni sia la conferenza episcopale che l'assemblea dei rabbini d'Italia. La lettura della CEI si sofferma sull'annuncio di rinascita che spetta al credente. Oltre la desolazione che possiamo vedere nel presente c'è una prospettiva di speranza, di un creatore che ridà vita al mondo, una rigenerazione fondata sul perdono e sull'alleanza con l'uomo che Dio non rinnega, testimonianza di un evento di resurrezione e allegoria della rinascita del popolo di Israele. Così i rabbini nel corso dei secoli hanno interpretato il racconto profetico. Se la storia recente spinge a vedere nelle schiere dei risorti i superstiti della Shoah che hanno cercato nuova vita nello stato ebraico, la nazione creatasi attende ancora, viene sottolineato dall'assemblea rabbinica, un'espressione spirituale più profonda nell'autentico sentimento di fede nel Signore.